ciao ragazzi video di recensione di questo adattatore che trasforma il nostro normale cavo per ricaricare l'ipad ma ne esistono simili anche per android in un cavo magnetico un po come succede per i mac vedete così da così a così da così a così qui c'è la freccetta e questa è la parte che va inserita all'interno del nostro in questo caso ipad ma la stessa cosa va bene anche potevo metterlo nel nell'iphone è un po larghetta quella la basetta e vuol dire che vuol dire che nel caso di un adattatore tipo questo qua non sarà facile inserirlo ecco nel caso avete una cover tipo questa molto particolare sarà sarà inadatta allora in questo caso uso un power bank e il normale cavo a questo punto sul normale cavo noi andiamo a inserire andiamo inserirlo così di qua c'è la femmina e di qua abbiamo la parte magnetica cosa succede che noi andiamo così e abbiamo il cellule l'ipad sotto carica tentiamo di zoomare nell'angoletto eccolo qua vediamo risulta essere sotto carica qual è il vantaggio il vantaggio è che non c'è un continuo metti e togli del cavo vedi anche così molto facile scollegarlo è molto facile ricollegarlo va collegato con il suo verso quindi dove c'è la freccia qui sotto il pulsante però una volta collegato col suo verso questo può essere indipendentemente sia da una parte che dall'altra vede fa rumore vuol dire che fa contatto quindi questo è forte anche per gli android perché gli iphone già hanno questa particolarità un verso l'altro è uguale con gli android è ancora più figo e qual è l'altro grosso vantaggio un attimo che io vi porto su questo poi vi faccio vedere dentro di zoomarvi vediamo un po di metterla messa a fuoco qua qual è il vantaggio ragazzi il vantaggio grosso è che siccome qua si rompono spesso i telefoni in questo punto se ci avete un telefono che è mezzo rotto mezzo sì e mezzo no vi ritrovate in situazioni in cui non dovete più continuare a mettere toglie entra anche in modo abbastanza duro è quindi è bello resistente quindi farà contatto sicuramente ecco qua una volta inserito se voi avete un oggetto tipo questo qua non avrete più bisogno di metti e togli praticamente all'interno rimane sempre inserito e quindi se l'avete già un po danneggiato non lo danneggerete ulteriormente bene ragazzi spero che vi sia piaciuto è un po una cinesata perché non è un accessorio originale apple esistono di vari tipo cioè che nel senso che qui potete ricaricare con cavo android e di qua esce iphone o se no qui ce l'avete android o iphone e di qua con la calamita potete mettere sia android sia iphone cioè quindi con lo stesso cavo diventa universale praticamente per caricare entrambi i dispositivi esistono in vari modi vi metterò un link in descrizione per trovare su amazon alcuni cavi tipo questo perché insomma un accessorio relativamente nuovo quindi ne escono in continuazione e nuovi la chiave di ricerca sarà magnete magnete cavo magneto adattatore magnete a phone android questa sarà la chiave di ricerca che vi metterò ragazzi non dimenticate mai di mettere un pollice in su a mille accendini per incoraggiarmi a andare a scovare delle novità sempre per voi ciao ciao